La palla è andata a battere sulle ruote di protezione, attenzione al Monopoli che attacca il centro campo, lo va a contrastare Carraro, Carraro lancia in avanti per Tinoco, scappa la marcatura, 18, dentro, attenzione, un altro colcivato, C'è Carelli ancora, la palla è lì, la palla è lì, gol, e guarda che gol che ci hanno fatto, e guarda che gol che ci hanno fatto, che gol che ci hanno fatto il Monopoli, C'è Carelli è riuscito a fare già, incredibile questo numero 10, il numero 10 ci fanno le bracciate. E guarda che gol che ci hanno fatto, la palla gli era sfuggita, C'è Carelli al momento della deviazione, al momento della deviazione gli era sfuggita la palla, un commissario di campo dice a qualcuno della panchina del Monopoli di non fare gesti verso la tribuna, due gol di C'è Carelli, la palla gli era sfuggita, la palla è data sul fondo vicino al palo corto, al palo di sinistro, C'è Carelli è ritornato, tutto aspettavano cosa facesse, invece ha infilato, tra palo e portiera ha infilato a panico, incredibile che gol che abbiamo preso.